Sindaco di San Valentino, questa manifestazione intitolata Artigianato Autentico in qualche modo riallaccia il concetto di borghi autentici? Sì, è una manifestazione che il Comune di San Valentino, grazie alla collaborazione con la Regione Abruzzo, il contributo della Regione Abruzzo, provincia di Pescara, Parco Nazionale della Maiella e tutti i comuni che hanno aderito, vuole nel contesto del borgo autentico di San Valentino riunire, quindi esaltare la capacità manuale, quindi l'artigianato dei comuni del circuito di borghi autentici. Anche l'assessorato regionale allo sviluppo economico ha dato il suo sostegno alla manifestazione ed anzi l'assessore e vicepresidente della Regione Alfredo Castiglione sarà coordinatore di una interessante tavola rotonda. In questo caso il territorio viene riconsegnato agli artigiani, gli artigiani quelli veri, gli artigiani che usano la loro manualità, che sono dei veri artisti. Sarà un momento di riflessione che a me mi vede impegnato in una tavola rotonda dove si parlerà dei marchi di qualità. I marchi di qualità sono delle realtà che stanno prendendo piede anche nella Regione Abruzzo, tra l'altro siamo all'interno di un distretto importante, che il distretto del benessere che può trasformarsi benissimo in un marchio di qualità e che va a suggellare e a certificare la bontà e il made in Abruzzo di tutto ciò che si produce in quell'area. In questi due giorni sarà possibile, visitando il borgo di San Valentino, trovare l'esposizione dei vari comuni, Faro San Martino, Cappelle sul Tavo, Canistro, Rocca Morice, insomma tutti i comuni del circuito borghi autentici che esporranno. Grazie a tutti.